Don Giacchi, giocatemi tre, settantotto e novanta per tutte le ruote. E a me cinque e fintotto, solo per Napoli. Don Giacchi, scusate, Ocano quanto fa? Sei. Eh, e allora fatemi sei e novanta. Premessa, 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 è romato paranzi, mi ha, premato paranzi. Sei, ma capita passato con carrettore. E quello il carrettore ci vorrebbe per il cento come voi. Don Giacchi, mi ha piacere quella notarella. Eh, no momento, no momento, quelle due mani tiene. Eh, ma chi vi ha interrogato a voi che rispondete sulla personalità fisica di Don Giacchi, ricevitù? Tiene due mani, ha fatto questa bella scoperta. Ci voleva la vostra intomissione per chiarire lo scuro mistero. Don Giacchi, hai notarella, mi ha piacere. Ah, dovete aspettare. Io ho lasciato il magazzino solo, come aspetta? Un magazzino? Sentite, quella è la bancarella. Eh, beh, che ci volete fare? Ognuno tiene quello che può. Voi avete il banca e io tengo la bancarella. Voi avete il maschio e io ho la femmina. Stiamo parabatto e pace. Che pazienza, Giannari. Guarda l'indagine, ma se vuoi notte, quanta fa? Don Giacchi. È per piacere, è mezz'ora, che aspetto. Eh, vi dite, ragione, vi dite. Giocatemi 21, 22, 23, 24 e 25. Eh, questi sono numeri che escono sulla ruota di Pollanatroccia. Vi prego di non offendere la felice memoria della buonanima di mia moglie Teresita. E che c'entra vostra moglie Teresita? Come che c'entra? Io l'ho sognata, i numeri me li ha dati lei. E che la signora vostra, anche dopo morta, vi sfutta. Scusi tumato. Se prendo la cinguina ci facciamo un sacco di risalto. A me non mi passa manca la capa, tanto quelli sono numeri che non escono. Potete giurarci, ragionete. E perché? Secondo voi quelli non stanno anche loro dentro il panariello? E voi lì volete mettere con i numeri miei? E voi lì vorreste paragonare con i miei? Con i vostri no, perché non ho l'onore di conoscervi. Anzi, c'è chi ci si ama, donna Rasiglia. Se non ci tenete vorrei dare un'occhiata alla notarella vostra. E per questo vi voglio perdere. Accomodatevi, ecco la notarella, leggete. Bello, bello, come so, bello. Onorò, onorò, ma questi sono numeri veramente simbatici. Voi avete una notarella che farebbe quello a parecchi giocatori. Oggi o domani con questi numeri lì, che verete, facci da la fortuna vostra. Ah, com'è bello chi capisce. Io, onorò, io ma adesso sono cabalista a corpo a mamma. Mi mangio pane e numero, onorò, Rosiglia. Guardate, non per farvi un complimento, ma voi avete quella simpatica simpatia che fa di due cuori un cuore solo, di due giocatori un giocatore solo. Quando si simpatica. Rosiglia, uniamo la vostra notarella con la mia, inserchiamo i vostri terni con gli ampi alle quaterne mie e vedrete che dopo nove mesi una bella cinquina non ce la toglie nessuno. Quanto mi piace. Eh, allora, Rosiglia, dammi un bacio. No, 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 qua no. Lo voglio qua. Canone. Lo voglio, lo voglio. Oh, oh, ma che si è lasciato pazza? A chi si so il numero? Ah, e voi dentro un bambolotto che volevate fare i sfugliatelli? E i numeri hai da fare? Rosiglia, Rosiglia, non ti auguri, cagliamo il possiere, questo tra le altre cose è pure malaurio. Hai ragione, io che gioco a canone non ho sbagliato mai niente. E chi amici, io mi ho capito. Eh, chi non va per i quartieri? Bene, non va per i quartieri, guardate là, guardate, guardate che faccia di possiere, ma come è una faccia di possiere, questo è una faccia di pezzo. Cagliene, cosa dite? E allora che gioco a canone non ho sbagliato mai niente, ma sei che parte, ma dal lavoro non è una faccia di esagerare? Oh, ieri, ieri, ieri. Sì, ieri, ieri. Noi, no, 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 no. Noi, no. No, no, no. Grazie a tutti